Quartieri Spagnoli ha la loro prima gara in questa Vomero Cup Summer Edition Buonasera Buonasera a tutti i giocatori Capitano Dove sta il capitano? Capitano siamo pronti? Siamo pronti in questo esordio? All'esordio si Che cosa vogliamo fare oggi? Senza un giocatore Senza perché L'ha avuto meno L'ha avuto meno Però siamo carichi Siamo carichi per fare bene Si deve vincere a questa prima per dare un buon segnale Dobbiamo imparare l'italiano Bocca al lupo ragazzi Grazie In attesa degli altri giocatori siamo qui con due elementi Ormai pronti per questo esordio del Frutti Ninja contro i quartieri Spagnoli Prima gara di questa Vomero Cup Summer Edition Considerazione da parte di De Marco Speriamo in un'ottima partita Anche se ci conosciamo poco Però confido in di noi c'era il nostro bomber Nel suo sinistro magico Esattamente Il maratonino del Frutti Ninja Speriamo in un'ottima partita di De Marco Speriamo in un'ottima partita di De Marco Bocca al lupo ragazzi Speriamo in un'ottima partita di De Marco 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.